Pesaro ritrova Austin Day dopo sette anni, la VL ritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive, si rilancia in chiave play-off e si prende pure una rivencita su Brescia dopo la semifinale di Coppa Italia. Nelle sabato sera della Vitri Frigo Arena la Carpegna prosciutto Pesaro a ragione della Germania 88-79 grazie ad un allungo decisivo nel quarto quarto di un match in perenne equilibrio fino al 59 pari con cui si chiude il terzo quarto. Nel finale torna ad essere decisivo Tambone, la difesa mostra solidità, si vince la guerra all'imbalzo e Day, ad una manciata di giorni dal volo intercontinentale da Taiwan, dà subito il suo contributo di qualità, carisma e precisione con 14 punti e 9 su 9 ai liberi. La Vitri Frigo Arena torna ad esultare e si carica al punto giusto verso la prossima sentita sfida di Bologna. È stato un sabato di redenzione anche per la Lavi Spesaro che dopo la più complicata delle settimane in mezzo a mille critiche al silenzio stampa ritrova quella vittoria che le mancava dal 31 gennaio e riparte dalle ultime disastrose tre sconfitte consecutive. A Recchioni il derby finisce 0-1 e si decide dopo 8 minuti su un calcio d'angolo battuto da Sinclair in cui il portiere Canarino Nardi ha una presa difettosa e la pressione difedato genera l'autogol di scorza. Nel resto della gara Lavi mostra una ritrovata compattezza di squadra limita la fermana e trova pure un clamoroso doppio palo confedato a Ngom. La Vis ora sale al quintultimo posto a meno uno dalla salvezza diretta. Vittoria 0-1 in trasferta anche per il Fano che spugna Vasto Girardi grazie a un gol di Broso all'ora di gioco. Per l'Alma è una terza vittoria consecutiva che blinda il quinto posto in classifica. Nel rugby sconfitta interna per la Fiorini-Pesaro rimaneggiata dagli infortuni. Altotti e Patrignani passano i Romani dell'Unione Capitolina con un punteggio di 12-24 costruito su uno 0-5 di fine primo tempo sul quale poi si è preso il largo con tre mete fino allo 0-17 al quale è seguita una reazione pesarese che ha addolcito il passivo con due mete di porcellini. Nella pallavolo ad Urbino la Megabox Vallefoglia perde 1-3 con Chieri dopo un primo set vinto dalle Tigri con illusoria scioltezza. Le piemontesi però salgono di tono e impongono a Vallefoglia una sconfitta che pare compromettere velletà da play-off. Grazie. Grazie.